Ciao, sono Rocco Buonanno, laureato in scienze motorie. Oggi parliamo di cardio. Perché se corriamo sempre per gli stessi chilometri, sempre allo stesso ritmo, dopo un paio di settimane ci ritroveremo a non perdere più peso? Se volete sapere quale accano mistero si nasconde dietro a questa realtà, prendete carta e penna. Pronti per questo viaggio? Andiamo! Prendiamo il caso di un ragazzo di nome Giulio, pesa 70 kg, non gli interessa la sala pesi, gli piace correre e vuole dimagrire. Giulio corre 10 km, 3 volte a settimana, sempre allo stesso ritmo e in media brucia 700 kcal. Ma Giulio non sa che di settimana in settimana il suo movimento si ottimizza? Il suo corpo diventerà più efficiente e questo si traduce in una minor spesa energetica. Scrivetelo! Sì ragazzi, avete capito bene? Di settimana in settimana il suo corpo si ritroverà a bruciare meno kcal. Attendo da questo presupposto aggiungiamo un d'assella in più. Giulio si è messo a dieta, parte da una norma calorica di 2300 kcal, scende a 2000 kcal settando un deficit calorico di 300 kcal. Il primo errore che fa Giulio è quello di mangiare 2700 kcal ogni volta che va a correre, per pareggiare le calorie in entrata e in uscita, lasciando sempre 300 kcal di deficit. Se fossimo delle macchine allora il piano di Giulio sarebbe un piano perfetto, ma purtroppo non è così. E come avremmo induito, non solo si ritroverà a bruciare meno kcal e quindi a ridurre il deficit calorico, ma addirittura quasi a pareggiarlo nei giorni in cui si allena. Tutto questo si tradurrebbe in un dimagrimento poco efficace e soprattutto troppo lento, che andrebbe quasi sicuramente a scoraggiare la maggior parte delle persone. Spero che quei grafici sono stati utili, in caso scrivetelo nei commenti. Ma comunque se dovessi dare dei consigli utili a Giulio, il primo sarebbe quello di andare da un nutrizionista, in modo tale che il nutrizionista comunque stili un protocollo adeguato anche all'allenamento che fa Giulio, quindi un protocollo alimentare soggettivo. Da coach consiglierei a Giulio di aumentare l'intensità per gradi, oppure volume di allenamento in modo tale da creare una progressione logica. Perché come abbiamo capito da questo video, il solo contare le chilocalorie non basta. Voglio ricordare che un allenamento mirato all'incremento della massa magra sarebbe una soluzione migliore, quindi anche affiancata al cardio ovviamente. Ma ricordiamoci che ognuno fa ciò che gli piace e magari se non si trova la soluzione ottimale, si può trovare comunque una soluzione buona per arrivare all'obiettivo. Bene ragazzi, io ho finito questo video, spero che vi abbia dato qualche informazione utile, qualcosa che non sapevate, qualche ragionamento in più per arrivare ai vostri obiettivi. Ebbene, dal coach è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!